si ritorna ai tempi antichi andiamo a un gioco più dovrebbe essere topolino un gioco di topolino vi devo dire la realtà dei fatti ragazzi non è abbastanza brutta anche questa è simpatica sia come design da mettere esposta e sia alla fine come due giochi che abbiamo preso a caso sono davvero simpatici la prendiamo un altro a caso beh questa non era finita anche era bello Mickey Mouse davvero molto divertente era simpatico cerchiamo tipo un Super Mario qualche cazzata match reader pack land facciamo se è pacman pacman è molto ma molto diverso ragazzi guardate come si cammina si cammina con questo si cammina e con questo si salta ma strano comunque è un pacman diverso ma staremo a vedere io vi rimanderò quando ci sono i ragazzi per provarlo sicuramente uno di questi giorni metteremo l'aria condizionata perché c'è troppo caldo che qua non si può stare poi qua sotto c'è molto umidità e in inverno c'è molto freddo e in estate c'è molto caldo ci penso che qua assisteremo qualcosa se non arriva il televisore in tempo giocheremo qua con i ragazzi una specie di aereo ragazzi faremo un video concentrato su questa console cinese per ora anteprima che va abbastanza positiva dai dall'estetica della console è positiva da mettere positiva solo come accessorio mi dispiace è bello come accessorio ma come giocabilità lascia il tempo a desiderare ci vediamo in un prossimo video